Albano Carrisi e Romina Power Reunion? Loredana Lecciso dice che è. La showgirl pugliese ha commentato la reunion televisiva del compagno con la ex moglie, e entrambe i conduttori del programma così lontani, così vicini, ammettendo errori del passato e sottolineando la necessità che i fan si adeguino ai cambiamenti. . Secondo quanto riportato da Todai, Loredana ha detto. Ogni scelta lavorativa di Albano merita la mia stima. Non interverrei mai per dargli suggerimenti. Entrambi rispettiamo la nostra autonomia. Qualche attrito è fisiologico specialmente in fase di conoscenza. . Di errori, in passato, ne ha commessi. Ho fatto un me e culpa pubblico. Quelli che siamo adesso siamo frutti di quelli errori. Poi ancora, ognuno vive la propria vita in piena libertà, sincerità, gioia. . Il resto sono solo parole. Lamore è inteso a 360 gradi. La nostra, di famiglia allargata, è una realtà bella, non arginata tra due innamorati. Ho una famiglia bellissima, genitori, figli, fratelli fantastici. . . Non potrei chiedere altro dalla vita ha aggiunto laleciso che poi non ha mancato di sottolineare limportanza di adeguarsi ai cambiamenti e di superare il passato, le critiche non mancheranno mai. . Molte persone sono rimaste ancora a quell'idea di Albano e Romina, bisogna adeguarsi ai cambiamenti. I fan nostalgici li ammiro ma devo anche lasciare piena libertà alle sue scelte. . Albano Carrisi e Loredana leciso fanno ormai coppia da anni. Insieme hanno due figli, Yasmine e Albano e Lunga R. Dal matrimonio con Romina Power sono invece nati Ilenia, Iari Marco, Cristel e Romina e Lunga R. Iolanda. . Anche Loredana è già stata sposata con Fabio Cazzato. Dalla loro unione è nata Brigitta, che sembra andare molto d'accordo con la sua sorellastra Romina e Lunga R, almeno in base alle foto pubblicare sui social da entrambe. .